Oltre mille capi di abbigliamento sequestrati e 13 ambulanti senegalesi denunciati dalla Procura della Repubblica di Pesaro. E il bilancio del servizio denominato Action Day, portato a termine dai carabinieri della stazione di Marotta, è disposto dal Ministero dell'Interno per il contrasto al dilagante mercato abusivo delle spiagge italiane. Erano giorni che i militari seguivano gli spostamenti dei giovani africani, che quotidianamente percorrono con gli immancabili bustoni celesti le spiagge Trafano, Mondolfo e Senigallia, proponendo ai prezzi stracciati l'acquisto di capi di abbigliamento, scarpe, cappellini e borse alla moda, abilmente contraffatti. Ed è stato così che i carabinieri hanno individuato il punto di raccolta degli improvvisati commercianti. Una faticente palazzina lungo la Statale Adriatica in località Pontesasso, composta da una decina di appartamenti affittati per lo più ad extracomunitari. La certezza che quella fosse la centrale di stoccaggio e smistamento dove si fornivano i venditori al dettaglio è arrivata dopo diversi giorni di appostamento. Le ricerche, poi estese agli appartamenti dello stabile, hanno permesso di recuperare circa un migliaio di capi di abbigliamento, pelletteria e altri accessori delle più note griffe, nonché centinaia di etichette di varia forma e fattura dei noti marchi. Le etichette, perfettamente uguali alle originali, venivano utilizzate in un laboratorio clandestino dedicato all'assemblaggio di materiali contraffatto, con tanto di macchine da cucire ed etichettatrici a caldo professionali. All'arrivo dei militari, infatti, uno dei denunciati era intento cucire su un paio di pantaloncini le etichette di Armani Jeans, mentre altri ad incollare sulle scarpe i loghi di Adidas e Nike. Con questa operazione è stato inferto un duro colpo in ambito locale al dilagante fenomeno della contraffazione e dell'abusivismo commerciale, che trasforma in estate le spiagge in bazar a cielo aperto e sfrutta i giovani africani che si concentrano nelle zone turistiche, perché attratti da queste forme di facile guadagno.